Canzoni inutili, Salvatore Riso che è stato con noi, allora ragazzi Carina è questa canzone, mi è piaciuta, bravo Salvatore Riso Stavamo parlando di Baglioni Eh sì, perché io mi chiedo se ci saranno canzoni inutili nel Festival di Sanremo di Claudio Baglioni? Beh, non lo so, secondo me no, perché comunque l'esperienza Baglioni ne ha parecchia Eh ma io sono un Carlo Contiano della prima ora, perché Carlo Conti ha la capacità di unire il pop Pop nel senso del nazional popolare con il pop nel senso del pop per i giovani E quindi mettere sul divano la nonna che vuol sentire Albano e invece il ragazzo a cui piace Enzi Oppure Sfera e Basta per dire qualcuno che io quando ho visto Sfera e Basta pensavo uno fosse Sfera e l'amico che cantava e basta Invece tutti insieme Ah ok, una sorta di Benji e Fede pensavi Eh sì, infatti ho detto, ah guarda quella è Sfera, l'altro sarà e basta E basta Invece mi hanno detto che era uno unico Che Festival di Sanremo sarà? Non lo so, soprattutto Baglioni Conduttore Eh lo sperimentiamo dai Ma insomma Da chi sarà aiutato? Allora Marco Predolina andava bene lo stesso C'è qualche indiscrezione su chi l'aiuterà? E pare che ogni sera ci sarà una valletta diversa, quindi si ritorna ad avere le bellocce sul palco dell'Ariston e un amico di Baglioni, nel senso un cantante, un artista amico di Baglioni che presenterà insieme a lui Un po' sulla falsariga di Oshah, perché Baglioni ha la Casa Lampedusa, fa tutti gli anni il Festival Oshah dove invita un sacco di cantanti e quindi magari prenderà da lì un portafoglio, una rosa di Artista Non ti convince Salvatore sta cosa? Un Morandi magari? Ah sì può essere Ci sarà l'ultima sera dai Sì, penso di sì, capitani coraggiosi all'Ariston Eh sì, secondo me qualcosa del genere salta fuori Va bene ragazzi, tra poco ci sarà poi la seconda telefonica, avremo Fabrizio Borghese che anche lui è un giovane cantautore che ci presenterà il proprio singolo Poi con voi parleremo anche di altro, di altri argomenti Di sport, parliamo di sport Parleremo anche di sport che come si suol dire in un momento, cassa gnocca Tipo capita a fagiolo, no? Esatto Ok, ok, va bene Siccome visto che c'è una donna, ovviamente noi cosa facciamo? Parliamo di sport Io vado con lui a prendere un caffè Va bene, ok Arriva Katie Perry Io direi che a questo punto, cari miei ragazzi, visto che abbiamo fatto il gemellaggio, è giusto anche che ci raccontate un po' la vostra realtà Radio Azzurra, Radio Azzurra FM, Chiaretta vuoi iniziare tu? No, inizia tu Inizio io Radio Azzurra FM a Novara dal 1975, una delle prime radio private quando la legge, non mi ricordo quale, aprì le radio libere E quindi a Novara nacque Radio Azzurra FM Che è la radio più ascoltata di Novara, ci tengo a sottolinearlo Tipo mantra, no? Con questo È giusto dirlo, scusami Radio ufficiale del Novara Calcio, che milita in Serie B E da quest'anno la grande novità sarà anche la radio che trasmetterà tutte le partite in casa e in trasferta in diretta della Igor Gorgonzola Novara, cioè della squadra di pallavolo in A1 Esatto Senti, com'è nata questo discorso di entrare anche nella pallavolo con la radio? È nata dal fatto, te lo dico qua, tanto non ci ascolta nessuno, no? No, esatto Che un giorno sono entrato nell'ufficio del presidente e gli ho detto, ascoltami, è uno scandalo che se la Rai non fa vedere le partite a Novara non si possa seguire una squadra che si sta giocando lo scudetto Perché è vero che c'è il canale della Lega e della Federazione in streaming, ma è a pagamento E quindi il tifoso o paga, oppure guarda sui gruppi di fan della Igor Gorgonzola qualche tapino che sta dando i risultati in diretta E siccome credo che la pallavolo possa essere raccontata anche radiofonicamente, perché è vero che è diversa dal calcio, però i ritmi sono molto più serrati, molto più veloci E quindi si può creare pathos anche nel raccontare una partita di pallavolo Ho detto, ma insomma, la Igor si sta giocando lo scudetto, non è l'ultima della classifica Si gioca lo scudetto e se la Rai non fa vedere una partita, soprattutto in trasferta, perché in casa chi vuole la va a vedere Ma in trasferta, quando si giocava contro Casal Maggiore, cioè le partite clou, perché non si può seguire la partita? E allora da lì è iniziata anche un lavoro insieme alla società, che ha capito e ha visto che poteva essere interessante portare il racconto delle partite anche in radiofonia Beh, possiamo dare un'anticipazione di chi sarà lo speaker? No, perché non si può ancora Non lo so, io non la seguo, quindi io non me ne curo Come si dice, work in progress, no? È tutto work in progress, ma insomma, manca un mese la prima partita, no? Meno di un mese Io sono andata solo una volta allo sporting a vederla a Igor, non mi ricordo contro chi, ma perché c'era il buffet E sono andata nel buffet Ah, ok Cioè, vedi sta ragazza Questa è la dimostrazione Tra l'altro aveva perso quella sera Questa è la dimostrazione del fatto del momento scacciagnocca che si diceva No, ma gli raccontavo che io da piccolina seguivo gli sport, seguivo il calcio in realtà Adesso poi pian piano mi è passata un po' In realtà seguo un po' la scherma, ma perché la pratico, quindi mi piace Quindi non è che ci sono donne che si interessano di sport Non usiamo loghi comuni Ah, ok No, ma molti dicono Adesso ovviamente si scherzava, Chiara Ho ancora qualche minuto, un minuto Sì, hai 30 secondi Molti dicono che la pallavolo non è uno sport appassionante perché non si vede il sangue Perché non c'è il contatto fisico E in realtà, secondo me E non è così Cioè, la pallavolo è uno sport Grazie per questa considerazione No, è uno sport invece molto intenso Perché quando vedi certe battute oppure certi recuperi in bagger di lancio Vedi anche dei fenomeni Io Stefania Sansonna l'adoro Io alzo le mani e dico che concordo Poi dopo ti racconto una cosa Arriva Giorgia con Credo Grazie a tutti